ciao a tutti e benvenuti nel canale video della maschera riposta io mi chiamo mosè e questo è un video un po particolare che ho deciso di fare per dare qualche consiglio in realtà questi sono più che consigli sono contro consigli mi verrebbe dire cioè suggerimenti soprattutto su cose da non fare secondo me più che su cosa da fare riguardanti il l'imminente play di modena la fiera del gioco più importante più importante d'italia però in realtà questo video lo stiamo realizzando appunto nell'imminenza dell'edizione 2022 del play però in realtà quello che diciamo alla fine è applicabile un po a tutte le fiere a tutte le fiere di settore quindi insomma anche se lo trovate dopo che il play è già passato non preoccupatevi ascoltate quello che abbiamo da dire perché potreste trovare qualcosa di interessante anche riguardanti appunto le fiere in generale e non semplicemente questa specifica questa specifica fiera allora ho messo assieme cinque consigli o per così dire contro consigli però sappiate che ce ne sarà anche uno bonus diciamo quindi alla fine saranno sei allora affronteremo anche dei temi controversi e io ve lo dico so già che molti che mi di voi che mi state ascoltando non saranno d'accordo con quello che diremo non c'è problema la sezione commenti è tutta per voi confrontiamoci però mi raccomando confrontiamoci da persone civili con atteggiamenti atti a arricchire il confronto e non a scannarci come se fossimo in una puntata del più trash dei talk show televisivi mi raccomando qui siamo su un altro livello come sapete all'interno all'interno di questa community allora signori primo consiglio che do ecco questo è già molto controverso diciamo quindi sono curioso di sapere cosa ne pensate il mio consiglio è di non prenotare i tavoli per le dimostrazioni negli stand delle case editrici va bene cosa intendo allora le case editrici le case editrici dei giochi di solito presentano dei prodotti durante queste fiere e dei prodotti nuovi o che sono appena usciti o che magari usciranno no a volte anche presentano prodotti che usciranno dopo sei mesi tipo quindi a volte ci sono anche delle anteprime diciamo interessanti ok e cosa succede che spesso queste 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 dimostrazioni diciamo questi tavoli dove vengono fatte queste dimostrazioni possono essere prenotati o in fiera o spesso anche prima che inizi la fiera va bene questa ragazzi è una roba che deve finire va bene è un'abitudine che deve finire io mi rivolgo qua sia agli utenti sia anche soprattutto agli editori che permettono e anzi promuovono questo mal costume ok allora ragazzi lasciate che vi sveli un segreto le fiere non sono ludoteche o meglio spesso nelle fiere ci sono anche delle sezioni che funzionano come delle ludoteche no per esempio non so la tana dei goblin no di solito nella al play e anche in altre fiere di settore e ha dei sapete che è l'associazione no che promuove il gioco da tavolo più importante in italia e spesso ha dei tavoli che funzionano come una ludoteca no cioè c'è una libreria di giochi uno si prende il gioco gioca va bene sta lì anche delle ore benissimo non c'è problema ok ecco di solito quei tavoli non possono essere prenotati anche se potessero essere prenotati però va bene ok ma alla fine è come appunto una ludoteca no cioè ci sono giochi disponibili che sono già appunto disponibili per tutti ok non ci sono spiegatori e dimostratori uno si mette lì si gioca si gioca la sua partita benissimo va bene ma negli stand delle case editrici che stanno proponendo mostrando delle novità non si deve non deve esserci il meccanismo della prenotazione ragazzi allora voi gli utenti della fiera non dovete prenotare i tavoli perché per non diciamo promuovere questo mal costume però i veri responsabili qui sono gli editori editori ma siete sicuri parliamoci papale papale editori non so se qualcuno ok dubito che qualcuno di loro mi stia ascoltando però ogni tanto in realtà c'è qualcuno che mi scrive mi dice ma guarda che ti ascolto anche se tu dici perché non c'è nessuno che ti ascolta qualcuno di quel settore lì guarda che qualcuno c'è in realtà quindi magari qualcuno mi sta ascoltando editori parliamoci papale papale il vostro scopo qual è nel in generale ok voi siete delle realtà imprenditoriali no credo cioè non siete nati per promuovere così la cultura del gioco vabbè magari anche quella è una vostra attività accessoria ma immagino che il vostro interesse interesse primario sia vendere questi stramaledetti giochi ok secondo voi è una politica intelligente per voi quella di far prenotare i tavoli e di fare queste dimostrazioni e poi di far giocare partite intere a quelle che si a quelli che si siedono a quei tavoli siete sicuri che sia una bella idea guardate che allora ragazzi qui mi sembra di dovervi insegnare proprio l'abc ok voi dovete mostrare questi giochi ai giocatori quel tanto ai potenziali clienti quel tanto che basta per come si può dire solleticare il loro interesse ok ma non così tanto da far sì che emergano i problemi del vostro gioco come dite il vostro gioco non ha problemi siete falsi come giuda tutti i giochi tutti i giochi hanno qualche hanno qualche problema hanno qualche magagna figurati se il vostro gioco non ha qualche problema qualche magagna va bene anche il vostro gioco ha qualche problema e qualche magagna ok siete sicuri che sia vostro interesse far stare seduti i giocatori per tre ore per tutta la partita così fanno le pulci al vostro prodotto va bene e poi magari non lo comprano perché si rendono conto che ha quel difetto lì che emerge magari solo sulla lunga sulla lunga durata guardate che è molto meglio fidatevi guardate che allora se fate come dico io ok le dimostrazioni dovrebbero funzionare in questo modo ok io mi siedo al tavolo va bene i tavoli sono aperti a tutti e chi è lì presente ha sempre la precedenza così dovrebbe funzionare va bene perché sennò finiamo come al cinema che va uno per 20 persone lasciando zaini su ogni posto no chi è lì presente deve avere la precedenza ok io mi siedo a un tavolo c'è uno che mi spiega il gioco velocemente va bene perché siamo in fiera non stiamo guardando un tutorial dettagliatissimo su youtube siamo in fiera c'è tanta gente che vuole provare il gioco quindi me lo spiega abbastanza velocemente ok più velocemente che può e poi mi fa fare qualche turno va bene e dopo mezz'ora massimo ok mi manda via calci nel sedere se io non mi voglio alzare da quel tavolo perché c'è un sacco di altra gente che vuole provare quel gioco ok siamo in fiera non siamo in ludoteca ragazzi per cortesia va bene comportatevi con un razziocinio da tutti i punti di vista va bene allora nel play dello dello scorso anno c'era uno stand non mi ricordo neanche più chi sia l'editore ma non è importante cioè è un mal costume diffuso questo quindi non è importante fare i nomi in realtà però in realtà faccio il nome del gioco ok c'era la dimostrazione di praga caput regni ok un gioco che mi interessava un gioco che mi ispirava anche così graficamente va bene ero pienamente intenzionato ad acquistarne una copia va bene mi avvicino a questo stand c'erano tre se non quattro tavoli completamente vuoti nel momento in cui mi sono avvicinato ma avete sapete cosa vuol dire in italiano completamente vuoti completamente vuoti con il gioco preparato al centro va bene io mi avvicino e dico a uno dello stand scusi mi mi spiega un po mi fa mi fa provare un po no non si può perché qui i tavoli sono già prenotati fino alla fine della fiera ma scusate ma secondo voi un cliente accolto in questo modo in uno stand come si comporterà secondo voi comprerà cinque copie del gioco per regalarne una a tutti i suoi migliori amici forse o magari se ne andrà scuotendo la testa e non vi comprerà il vostro gioco neanche sotto tortura cari 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 editori siete sicuri che sia una buona strategia questa con tre tavoli completamente vuoti se non quattro adesso non mi ricordo non mi ricordo il numero ma andare via perché sono prenotati sono prenotati ma come sono prenotati ma io sono lì in quel momento non c'è nessuno seduto a quei tavoli fatemi sedere a quei tavoli spiegatemi quel gioco mi sarebbe bastato che me lo spiegassero per cinque minuti e avrei comprato una coppia me ne sarei andato via tutto contento ok ragazzi questo mal costume dei tavoli prenotati e della gente che sta seduta per ore perché la seconda parte di questo consiglio è anche è anche quest'altra se siete al tavolo dove stanno dimostrando un gioco nuovo relativamente nuovo il tavolo di un editore per cortesia alzatevi dopo un po non mi interessa che non avete finito la partita non siete in ludoteca siete in una fiera va bene dove è pieno di gente che vuole sedersi che vuole provare il vostro scopo in fiera è provare i giochi poi se vi piacciono ve ne comprate una copia e a casa state seduti 12 ore di fila al vostro tavolo e vi scarnificate il gioco come meglio credete ma non in fiera va bene quindi questo era il nostro primo consiglio non prenotate tavoli perché se prenotate tavoli alimentate questo mal costume poi non lamentatevi se in fiera rimarrete sempre in piedi e non riuscirete a provare niente va bene se avrete prenotato un tavolo anche voi siete parte del problema non prenotate un tavolo ed editori per favore piantatela di far prenotare i tavoli ok i tavoli devono essere lì a disposizione di chi c'è fisicamente chi c'è fisicamente lì in quel momento deve avere la vostra assoluta attenzione va bene non preoccupatevi chi arriverà venerdì alle quattro e mezza preoccupatevi di chi è lì in quel momento e non permettete che 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 vengono prenotati i tavoli e che non venga lasciato nessuno spazio a uno che passava magari di lì così no magari non pensava neanche al vostro gioco no come faccio ma scusate tra l'altro come faccio a sapere due mesi prima che giochi mi interesseranno ma li dovrò magari vedere no preparati sul tavolo ok come faccio cioè lo vedo preparato sul tavolo dice ma dai guarda che carino questo qua magari neanche sapevo che esistesse no oppure sapevo che esistesse però le foto non mi avevano detto niente guarda invece sul tavolo com'è carino no ma proviamolo ok questo deve essere il modo in cui funziona una fiera ok consiglio numero due signori mi fermano un po ma sono temi che mi stanno molto a cuore allora consiglio numero due vogliamo anche questo è un contro consiglio ok anche qui forse stiamo parlando di un tema un po' controverso quindi verrò riempito di insulti me ne farò una gran ragione volete per favore piantarla di venire a questi eventi affollatissimi con degli zaini enormi ma cosa sono quelle robe che vi mettete sulle spalle ok questi zaini che sembrano dei la cosa sono sembrano quelli con cui quelli di glovo portano in giro le pizze va bene per metterci dentro le scatole dei giochi che quando vi girate ammazzate ogni volta cinque persone e occupate un sacco di spazio in fiera ma cosa ma volete piantarla per cortesia girate girate leggeri per favore ok ho anche letto dei consigli dati da gente che la sa lunghissima su certi gruppi di discussione in cui dicono sì venite con lo zaino mettete dentro un litro d'acqua panini vettovaglie uno addirittura ha scritto una volta carta igienica ma siete impazziti c'è tutto quello che vi può servire già là non dovete portare niente ragazzi è pieno di baracchini che vendono bottiglie d'acqua che vendono cibari ci sono i bagni i bagni hanno la carta igienica dentro se a un certo punto finisce andrete in un altro bagno o userete un fazzoletto per cortesia ok viaggiate leggeri questo consiglio che vale tra l'altro sempre piantatela anche di girare per i centri storici con questi zaini enormi cosa ci mettete dentro ok viaggiate viaggiate leggeri e se avete bisogno di qualcosa lo comprerete adesso non mi direte che le vostre finanze vanno in rovina se comprate una bottiglietta d'acqua a un euro e mezzo in un baracchino siete messi così male non posso credere che sia quello a fare la differenza viaggiate leggeri ragazzi e qualcuno qui ribatterà sì ma io devo comprare un sacco di roba in fiera no allora ragazzi qui entriamo al terzo punto del del mio della mia lista di consiglio meglio di contro consigli ok attenzione attenzione in fiera agli acquisti compulsivi qui l'esperienza che parla quindi qui devo dire che è anche un mea colpa che faccio rispetto a certe a certe edizioni dei dei degli scorsi anni ok in fiera è molto facile farsi travolgere appunto dall'acquisto compulsivo per forza poi pensate di avere bisogno di sei zaini per metterci dentro tutti i vostri acquisti cercate di avere un approccio un po più razionale no se una roba è in sconto non vuol dire necessariamente che voi dobbiate comprarla cioè a volte se una roba è in sconto e ce ne sono pile alte così a 5 euro un motivo ci sarà è di un gioco che magari era uscito e ne costava 30 40 o anche 50 un motivo ci sarà è scommetto che non troverete pile alte così a 5 euro di syf per dire o di everdel per dire scommettiamo che non ne troverete ok cioè ci sarà anche un motivo no se questi giochi sono 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 così scontati state attenti valutate che sia veramente un gioco di vostro interesse prima di di vabbè magari li starete risparmiando rispetto al costo ma se poi lo intavolate una volta o addirittura mai no perché c'è sempre qualcosa di più importante che dobbiamo trovare rispetto ai giochi presi in saldo a 5 euro alle fiere cioè alla fine avete comprato solo una roba che vi ingombra non solo la visita al play ma anche la casa poi quando arrivate quando arrivate a casa quindi attenzione ragazzi ecco qui tra l'altro voglio fare un'osservazione che va un po controcorrente anche questa ok allora leggo spesso nei gruppi di discussione polemiche nei confronti di chi compra giochi scontati in fiera e poi li rivende magari un po di più no nei 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 gruppi dedicati sei un bieco speculatore ragazzi secondo me ha molto più senso fare quello che non comprare giochi scontati per poi non giocarli ma cioè per sé per poi non giocarli mai ha un comportamento molto più logico e razionale chi compra dieci copie di quei giochi scontati e poi cerca di di fare del business diciamo cerca di 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 guadagnare qualcosa rivendendoli va bene guardate che non c'è niente di male nel fare cioè questa è un'operazione come dire di di scambio che rientra pienamente nel libero mercato ok vi sta antipatico chi fa queste cose sentite che ideona che vi do non comprate lì questi giochi quando vengono messi quando vengono messi in vendita ma non scassateci tutte le volte con i vostri post moralisti sul fatto che queste robe non vanno fatte ok la il moralismo bieco sulla come dire sul comportamento utilitaristico è ipocrita perché tutti noi organizziamo la nostra vita sulla base di criteri puramente utilitaristici quindi piantiamola di fare i paladini del bene va bene quando in realtà siamo tutti compromessi ed è giusto così con l'utilitarismo perché è giusto così perché è così che funziona la vita ok quindi piantiamola di fare i paladini del bene nei confronti di gente che sta cercando magari di guadagnare 5 euro in più rispetto guardate che alla fine io che non sono andato in fiera ok se compro già allora mettiamo che un gioco costa 50 euro di listino ok e in fiera lo mettono a 10 va bene se io che non sono andato in fiera compro quel gioco a 20 da uno che l'ha comprato a 10 in fiera ma sto facendo un affarone cioè guardatevi andare in fiera costa un sacco di soldi ragazzi cioè devi costa tempo costa so trasporto albergo cibo cioè ragazzi non sono andato in fiera e sto comprando quel gioco a 20 euro invece che a 50 da uno che l'ha pagato 10 chi se ne frega sto comunque facendo un buon affare io ok quindi piantatela di fare i moralisti su chi compra i giochi a prezzi bassi e li rivende a prezzi un po più alti è una roba normalissima anzi sono molto più intelligenti loro di voi che comprate quei giochi a 5 euro per giocarli voi e poi non li giocate mai va bene quindi per favore piantatela di fare queste di fare queste polemiche inutili va bene passiamo al quarto consiglio cari amici quarto consiglio allora sapete qual è uno dei più grandi problemi di queste di questi eventi così affollatissimi uno dei più grandi problemi adesso mi secca affrontare questi questi temi forse un po come dire delicati sono sono gli effluvi va bene che capita di 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 doversi sorbire diciamo mentre si esplorano gli stand no allora per cortesia ok siccome farà molto caldo no adesso quest'anno lo fanno a maggio di solito si faceva in aprile no scorso era settembre ultimamente sta un po cambiando collocazione il play però insomma in generale questi eventi si fanno di solito no spesso oddio non so se sia una tendenza diciamo che spesso questi eventi si fanno quando è molto caldo ok ragazzi allora intanto lavatevi prima di venire in fiera questo è un buon sollele usate del deodorante ok del deodorante se se vi irrita usate quello magari biologico ok che che non vi irrita ma per favore usate un qualche deodorante e vestitevi in accordo con la stagione va bene lo so che vi piacerebbe tanto mettere quella felpa dei cavalieri dello zodiaco che tenete no come un perché tenete per queste occasioni però ragazzi ci sono 40 gradi all'ombra magari la felpa non è un'idea geniale quindi vestitevi in accordo con il clima lavatevi e cercate di curare insomma dovrete dovrete interagire con degli altri esseri umani che vorrebbero interagire con delle persone civilizzate e non con gente che sembra appena uscita da una caverna va bene dopo aver scuoiato un animale appena catturato con delle lance con delle punte di selce va bene ecco per favore cercate di essere presentabili e insomma essere diciamo in accordo con il contesto sociale in cui vi trovate a collocarvi ok quinto consiglio signori allora anche questo è un consiglio che è frutto di esperienza mia personale ok allora in teoria il play o in generale gli eventi di settore sono il momento perfetto per vendere i vostri giochi no se avete giochi che volete di cui volete liberarvi sono il momento perfetto no ci si accorda prima magari no ma magari si mette un annuncio si dice guarda vendo questi giochi qua o ve li spedisco oppure per risparmiare la spedizione magari ce li scambiamo al play no li portiamo al play ce li scambiamo allora questa è uno questo è uno di quei casi in cui una bellissima idea in teoria è invece secondo me nella quasi totalità dei casi pessima dal punto di vista proprio pratico ok allora intanto voi dovete arrivare in fiera già pieni di pesi cioè prima ancora di comprare arrivate pieni di pesi va bene poi vi siete messi d'accordo magari no vi siete messi d'accordo allora i più sprovveduti si mettono d'accordo solo sul giorno no così poi non si capisce quello che vi deve prendere il gioco cercherà di darvi l'appuntamento quel giorno più tardi possibile così ve lo il peso intanto ve lo dovete tenere voi ok ma anche se siete meno sprovveduti e cercate di fissare un appuntamento più preciso tipo ci vediamo venerdì alle 3 in quel punto preciso della dello stand della fiera del coso ok ecco anche in quel caso guardate che state correndo dei rischi perché magari no il tizio a cui dovete dare il gioco vi dirà ma guarda proprio adesso mi sono seduto no a provare orchi e goblin capitolo 4 ok al tavolo di dell'editore vatte la pesca va bene quindi non posso assolutamente facciamo ne spostiamo di un ora in avanti se ti dispiace ok e cosa fai cosa rispondi no vieni qua assolutamente e abbandona orchi contro goblin capitolo 3 cos'era adesso mi sono inventato sul momento abbandona no no adesso devi venire qua immediatamente inutile ok cioè voi rischiate di condizionarvi tutto il tempo in fiera per cercare di dar via sti giochi ok secondo me non ne va la pena va bene lasciate perdere cioè arrivate in fiera tranquilli scialli come dicono i giovani forse non lo dicono già neanche più forse già una roba da vecchi dire scialli non lo so ok tranquilli leggeri senza pesi e venderete i vostri giochi insomma in altri in altri momenti ecco secondo me non è cioè in teoria sembra il momento perfetto invece è troppo cioè c'è troppa roba da fare da vedere per potersi occupare realmente di quello secondo me quindi non è una roba che funziona tanto bene ok questi signori erano i miei cinque consigli però come vi dicevo prima ve ne voglio dare anche uno bonus vi voglio dare un consiglio un sesto consiglio e questo sesto consiglio potrebbe sembrare un po strano invece secondo me è importante allora una passione ma vissuta in modo sano secondo me è una passione che non ti rende cieco a tutto il resto ok cioè approfittate del fatto che state andando a modena che è una città bellissima e visitate la città cioè non limitatevi a stare sempre tutto il tempo dentro a quei a quei padiglioni ok ogni tanto e prendete magari il giorno prima che inizia la fia oppure il giorno dopo no non lo so magari avete prenotato tutti e tre i giorni vi accorgete che alla fine del sabato avete già visto tutto benissimo invece di tornare la domenica a rivedere robe che avete già visto ok in mezzo al casino andatevi a vedere il centro storico della città approfittate di quelle serate per provare i meravigliosi ristoranti del centro storico di modena ragazzi io tutti gli anni ne provo di diversi in alcuni vado tutte le volte va bene anzi se volete mandatemi dei messaggi privati vi do dei suggerimenti a riguardo alcuni secondo me sono irrinunciabili però ogni tanto ne provo anche di nuovi ragazzi sapete che l'offerta culinaria da quelle parti lì è una roba straordinaria ma ragazzi in generale il centro storico di modena è meraviglioso c'è un bellissimo museo civico ok ci sono delle bellissime piazze dei bellissimi vicoli delle bellissime strade porticate ecco non siate quegli appassionati ottusi no che gli fanno la fiera in me in una città bellissima che non hanno mai visto in vita loro e loro continuano andare mai a vederla per stare tutto il tempo in fiera ecco per favore abbiate anche occhi per altro no questo vi renderà in realtà il vostro modo di vivere la vostra passione ancora più vero ancora più vivo e ancora più ricco di soddisfazioni no perché vi darà anche delle occasioni per sperimentare per avere esperienze che fino a quel momento non avreste mai fatto no magari senza lo stimolo dato dalla vostra passione particolare che ne pensate signori di questi di questi consigli immagino che molti di voi non siano d'accordo con qualcuno o anche magari con tutti fatemi sapere naturalmente questo vuole essere anche un invito al dialogo sempre naturalmente con informe civili mi raccomando e razionali e non tossiche ok quindi accedete pure alla sezione commenti fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se ne avete altri no magari mi so adesso questi sono consigli che ho buttato giù così velocemente in cinque minuti magari avete altri avete altri consigli che voi dareste magari siete anche voi veterani di questi eventi e volete condividere la vostra esperienza beh naturalmente condividetela nei commenti sotto a questo video grazie mille per aver guardato per aver guardato questo video per aver ascoltato il mio rambling sono molto mi sono molto grato del fatto che mi abbiate dedicato questi minuti del vostro tempo se vi piacciono i nostri contenuti e non l'avete ancora fatto beh considerate la possibilità di iscrivervi a questo canale realizziamo video sia specificamente dedicati a giochi di ruolo a giochi da tavolo giochi di ruolo per computer e giochi da tavolo ma ogni tanto ci piace anche parlare di tematiche più di tematiche più generali e ci piace anche entrare in dibattiti a volte anche scottanti quindi potreste trovare materiale di vostro interesse nei video passati di questo canale grazie ancora mosè dalla maschera riposta vi saluta e vi da appuntamento al prossimo video